Oggi siamo su Run Sackboy Run E adesso andremo a giocare a questo gioco Abbasso il volume perchè altrimenti qua mi spedono le orecchie Aspetta sto registrando questo video Ragazzi questo è il mio amico Cristian saluta E anche Domenico e Andrea Ok allora Run Sackboy Run Ma perchè si blocca Nel dubbio iscrivetevi a tutti i canali C'è Andri, Domi, il mio, quello del Gabbo, quello di Carola eccetera Perchè posteranno nuovi video ogni giorno anche se il Gabbo attualmente non è posta Non lo so Bene Quindi Ragazzi Potete mettervelo il microfono Quindi Finalmente che è attivato il microfono Ragazzi stasera che mangiate Io non lo so manco Io non lo so se pesce, carne Nel dubbio io ogni sera mangio pesce o carne arrostiti e verdure Ragazzi Alzi la mano a chi piace la lattuga Vabbè ragazzi Questo video finisce qui Su Run Sackboy Run E vabbè ragazzi Ciao Salutate raga Ciao 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 Ciao